salve sono peter spencer per la vendita della casa c'è qualcuno è permesso parla il detective maldon sono peter spencer mi è successo qualcosa al 44 di rayburn drive in quella casa fu ucciso qualcuno perché lei non c'è mai entrato sentivo che qualcosa non andava pare che ne abbiamo un altro credi che quel cadavere sia collegato e la sono andata alla casa posso entrare sono della polizia credo che qualcosa mi abbia seguito mamma che succede che cos'hai dobbiamo andarcene subito no 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 Grazie a tutti.